Salve a tutti, con questo video voglio farvi vedere l'utilizzo dei temporizzatori nella programmazione dei PLC Siemens mediante il programma TIA Portal Per quanto riguarda la programmazione in ladder diagram per avvantaggiare il lavoro ho già preparato le variabili del PLC possiamo visualizzarle sul tabella delle variabili standard ho già creato le mie variabili adesso passiamo direttamente alla programmazione Per quanto riguarda i timer si trovano nella cartella temporizzatori e abbiamo ben 4 diversi tipi di temporizzatori il primo che usiamo è questo, il TON lo prendiamo, lo trasciniamo sul segmento il TON aprirà una finestra dove ci chiederà dove dobbiamo inserire il nome da dare al timer mettiamo questo che sia il nostro timer un timer a ritardo all'inserzione perché questo è il lavoro che farà un timer con ritardo all'inserzione clicchiamo su OK e il timer di per sé ha due ingressi l'ingresso IN che è quello che darà l'abilitazione allo start al temporizzatore e il PT, il preset time dove dovremmo inserire il valore della temporizzazione in uscita abbiamo la Q che è il quit, l'uscita del timer avendo già preparato le variabili vado a cliccare prendo un contatto normalmente aperto vado a scrivere la mia variabile la start che ho già preparato prima TON il tempo nella PT per default è in millisecondi quindi se voglio inserire un valore in secondi scrivo ad esempio il numero 5 seguito dalla lettera S così il tempo è in secondi in uscita metto una bobina dove vado ad inserire il valore della mia uscita in questo caso mi sono creato il comando per temporizzare questo timer a ritardo all'iniziazione quando il segnale di start è attivo il segnale sarà memorizzato per 5 secondi dopo 5 secondi avremo la nostra uscita andiamo a vedere come funziona questo temporizzatore compilando prima il software e le istruzioni e dopo di che possiamo vedere il funzionamento non essendo collegati direttamente col PLC possiamo vederlo simulando l'uso l'uso del PLC con il comando avvia simulazione così entreremo in modalità simulazione PLC dopo averlo compilato e caricato nel PLC simulato possiamo vedere il funzionamento andando ad abilitare quelli che chiamiamo comunemente occhialini ma sono il controllo on-off del programma aspettiamo un attimo che si abiliti il controllo eccolo qui adesso andiamo a provare il nostro il nostro comando non essendo collegato con il PLC fisico gli ingressi sono stati utilizzati delle memorie in quanto mediante le memorie posso in questo modo qui sopra trovare il comando e posso direttamente commutare da on a off direttamente tramite software non essendo come dicevo prima collegato con un PLC fisico quindi in questo modo attivo attivo il comando vedete che il tempo sta trascorrendo alla fine dopo 5 secondi l'uscita è stata attivata ovviamente l'uscita rimane attivata di conseguenza se voglio ripetere la temporizzazione devo disabilitarla quindi in questo caso lo faccio direttamente comandando in off comandando a 0 possiamo vedere che il comando è stato disabilitato se voglio ripetere l'operazione di nuovo dovrei attivarlo o mediante un comando dal PLC oppure virtualmente comandando a 1 dal simulatore ecco vedete che dopo 5 secondi ho la mia uscita questo è il funzionamento del temporizzatore TON con ritardo all'iniziazione cioè l'uscita sarà abilitata dopo che il segnale è rimasto presente per il tempo che è stato indicato nel preset time vediamo adesso invece il funzionamento dell'altro temporizzatore il temporizzatore TOF o TOF lo portiamo sul segmento 2 si apre la finestra che mi chiede il nome che è da dare a questo temporizzatore lo chiamiamo timer a ritardo alla disinserzione perché il suo lavoro è opposto all'altro questo timer è ritardato alla disinserzione del comando clicchiamo su ok anche in questo caso dobbiamo mettere il segnale di partenza di comando del timer dobbiamo mettere il tempo di preset e l'uscita per visualizzare cosa accade come funziona il nostro timer uscita TOF eccolo qua carichiamo di nuovo il dispositivo simulato il nostro le nostre modifiche rilanciamo i comandi il controllo on off ecco vediamo che adesso abilitando l'ingresso dello start del TOF comanda a1 l'uscita è già presente l'uscita è già eccitata l'uscita si spegnerà se diventerà lo stato off quando il segnale di ingresso sarà eliminato perché se lo lasciamo in questa situazione l'uscita sarà sempre presente in questo caso il temporizzatore inizierà a contare i 5 secondi da 0 a 5 solo quando il segnale di start viene a da mancare ecco vedete che adesso manca sta contando il tempo quando arriverà a 0 non ci sarà più l'uscita proviamo ancora comanda a1 comanda a 0 notate cosa succede se lo fa riporto di nuovo a 1 se lo riporto di nuovo a 1 in pratica la temporizzazione riparte di nuovo da 0 ricomincia la temporizzazione non la temporizzazione non riparte dal momento in cui avevo cambiato lo stato dell'ingresso togliamo un attimo lo stato on off separiamo quindi il collegamento temporale e andiamo a vedere sull'altro segmento del segmento 3 il funzionamento del ton t-o-n-r che tipo di ton è questo questo è un timer ho scritto la timer ecco vediamo che qui me lo segnala come accumulatore tempo e scriviamo accumulatore temporale vado a cliccare su ok adesso vediamo cosa significa in questo caso il timer ha in ingresso tre opzioni mentre l'uscita è sempre la stessa quindi mi servirà un segnale di ingresso che ho già preparato che ho chiamato start t-o-n-r il tempo questa volta voglio mettere 8 secondi 8s e il segnale questo sulla r lo mettiamo dopo per capire adesso cosa serve sulla q mettiamo la nostra uscita che ho già preparato e ho chiamato uscita eccola qua t-o-n-r ricarico le modifiche attraverso la compilazione del file e quindi la ricarico nel dispositivo quello virtual ovviamente ti dico carica chiudo questa finestra rilancio lo stato on off vediamo cosa accade adesso siamo rimasti ho sbagliato ho messo non quello del ton o-r ho messo quello del ton rifacciamo un attimo il tutto modifichiamo l'ingresso questo è il bello della diretta eccolo qua state ton-r quindi di nuovo compila la pazienza non è mai troppa quando si programma di nuovo ricarichiamo e di nuovo rilanciamo la visualizzazione degli stati ecco comanda comanda 1 comanda 0 vedete che non succede assolutamente niente per quale motivo perché il temporizzatore è in uscita ma è già abilitato ma per poter resettare il temporizzatore ho bisogno di un segnale che attivi l'ingresso r cioè che resetti l'abilitazione quindi stoppiamo un attimo la nostra simulazione e andiamo a collegare su r il nostro comando di reset che avevo già preparato ovviamente adesso bisogna ripetere le operazioni precedenti e riportiamo tutto nel controllo degli stati vediamo adesso cosa succede adesso se comando il reset a 1 eccolo qua il contatore e il temporizzatore è stato resettato ovviamente devo riportare a 0 il comando del reset altrimenti se comando il timer il reset vince sul 7 e di conseguenza non ho nessun nessun segnale quindi adesso lo facciamo partire portando il comando a 0 e così fra 8 secondi il timer avrà il suo segnale di uscita a questo punto se disabilito portando a 0 il mio timer vedete che il segnale rimane attivo riportando di nuovo a 1 il timer non riparte perché era già comandato in uscita sono così costretto a usare il reset se voglio riutilizzare nuovamente questo timer accumulatore temporale quindi la differenza tra questo ton e il primo che abbiamo visto in questo caso è che tutti e due sono ton con ritardo all'inserzione mentre il primo una volta che ha completato il suo percorso se rilancio lo start riparte nuovamente il temporizzatore e comincia il suo conteggio con il ton R ha bisogno invece di essere prima resettato resettiamo questo timer comando a 0 togliamo la visualizzazione degli stati per concludere questa breve carellata dei timer con il comando con il blocco tp questo possiamo chiamarlo come un generatore di impulsi generatore di impulsi ok ha due ingressi ed un'uscita mettiamo il nostro ingresso di comando start tp mettiamo il tempo 10s e colleghiamo la nostra uscita uscita tp ecco qua abbiamo realizzato il comando del temporizzatore per vedere il momento